con l'idea di diversificazione del business IEC ha deciso di essere supportata da altre due aziende al fine di soddisfare tutte le possibili richieste del cliente il core business di IEC rimane sicuramente quello della termoregolazione di stampi e di contenitori e quello della produzione di vasche per il raffreddamento dei pezzi al fine però di rendere l'offerta più completa possibile nasce una nuova azienda Vector Precision questa azienda viene fondata per soddisfare l'esigenza del cliente di avere un sistema di collegamento tra stampo e tutte le periferiche IEC connesse alla pressa stessa studiata appositamente per presse di tonnellaggio molto superiore alle 6.000 tonnellate gli impianti sono studiati progettati costruiti ed installati direttamente da Vector Precision altro plus è che tutti questi impianti sono costruiti completamente in acciaio e rispettano le normative di saldature di precisione europee indicate dalla PED come richiesto dagli standard dei grandi OEM tier 1 del settore dell'automotive Mirai terza azienda del gruppo IEC invece gestisce tutto il comparto amministrativo contabile ed organizzativo di IEC e Vector Precision tramite questa soluzione IEC e Vector Precision hanno potuto concentrarsi sulla produzione di prodotti e lasciare invece in mano a Mirai tutto il comparto gestionale Mirai fornisce una moltitudine di servizi ad alto livello tra i quali studi di fattibilità ingegneristica idraulica ed elettronica a che a l' Hook a